ciao ragazzi domanda bruciapelo prima della live di questa sera in cui ci addentreremo nella terra di mezzo assieme alle carte di magic the gathering vi piacerebbe giocare il formato blocco relativamente al set del signore dei anelli quindi un formato in cui sono legali solo ed esclusivamente le carte di questo set potreste costruire qualcosa di competitivo attorno a gandalf attorno alla la meccanica dell'anello attorno a radagast attorno a saruman attorno a frodo e vari equipaggiamenti attorno a tombombadil e le varie saghe visto che comunque ce ne sono parecchi in questo set e ovviamente attorno al signor oscuro quali potrebbero essere i rischi per questa scelta da parte della wizard quali potrebbero essere i benefici ma soprattutto se fossero semplicemente dei il vostro negoziante di fiducia a organizzare questo evento quindi quindi eventi locali sareste contenti giochereste provereste a portare qualche amico vostro fan del signore dei anelli a giocare questo formato diteci la vostra che sono siamo molto molto curiosi ciao